Siamo notati Gesù e Maria, sempre sia notato. Come avrete notato, il maggiore di oggi è in stretta continuità, come lo dobbiamo ascoltare durante la Santa Messa della quarta domenica di Pasqua, e ancora la Chiesa vuole, continuiamo a riflettere sul buon pastore, e sulle piccolelle, e mi permetterete poi di approfondire un po', perché ne abbiamo un esempio formidabile, lo splendido passo della prima lettura che vi prego in ginocchio di ascoltare bene, di accogliere l'insegnamento che ci dà. Io ritengo che sia una delle cose davvero più importanti nella comprensione di questo mondo in cui ci sono la nostra vita cristiana. La premessa è il Vangelo. Ricordiamo sempre che Gesù si presenta, l'ho detto, all'Università di San Paolo e Domenica, come pastore, buono, ha dei mezzi miti, pacifici, non bastona le persone. Ti parla, se gli apri il cuore, con l'intenzione di persuaderti, anzitutto del suo amore, e quindi della bontà e della verità di quello che ti dice e che ti chiede. Chi lo accoglie? Quelli che sono le sue pecore, quindi c'è il cuore aperto, che non si rigidisce. E una volta che hai accorto quello che Gesù vuole, è abbastanza facile, quello che Gesù ti dice, è abbastanza facile fare quello che ti vuole. Quando ha condotto quelle sue pecore, Gesù camminano in azione loro e le pecore non seguono perché conoscono la sua voce, che significa, perché sanno che quello che Gesù ti insegna, quello che Gesù dice, è la verità, è bene per te. Quindi non lo fai a forza o controvoglia, lo fai perché sei convinto, e se fai così è tanto meglio per te. Passiamo alla prima lettura, e se applicazioni pratiche, contestualizziamo le bisogni. San Pietro c'ha una visione, in quella visione, in cui ho anche le cose, che qual è il contenuto? C'è una volta una serie di cibi che per gli ebrei non si possono toccare in base a delle estizioni dell'Antico Testamento. Nella città dice, Pietro ha dovuto ammazzare e mangiare questa roba, ma io, ma ho fatto vita mia, io sono un ebreo, questi sono cibi immondi. E' roba profana. La voce dice, quello che Dio ha dichiarato un po' tu non considera profano. sparisce la visione. Che succede? Arrivano delle persone che dicono, guarda che dovresti venire con noi, da una parte, e dopo lo portano in casa di un pagano. Per gli ebrei, noi non facciamo quanti che entrare in questo momento. Ricordate anche il giorno di Gesù che è stato condannato a morte, che gli ebrei non sono entrati davanti a Pilato perché si contaminavano, dovevano mangiare la Pasqua. ammazzare il Gesù non ci contaminavano, però entrare. Però per gli ebrei questa è una cosa con me, cioè i pagani sono reglietti, Dio non andrà mai a fargli del bene, sono semplicemente delle persone spreggevoli. Lui entra, e che cosa gli racconta? Dice, guarda che ti siamo venuti a cercare, perché questo pagano ha visto un angelo e gli ha detto vai a cercare Simone che ti deve dire delle cose che devo parlare su Mesa per Tempo e le famiglie. Pietro comincia a dire il Vangelo e che cosa fa? Vede con gli occhi lo Spirito Santo scendere su questi pagani. Cosa significa questo episodio? E che cosa è successo a San Pietro? Guarda che San Pietro era il Papa, eh? San Pietro che era il Papa essere il Papa con tutto il rispetto per i bambi non significa essere il Padre Eterno. Cioè tu non sfuggi alle regole della vita umana per cui la tua vita è in crescita costante e continua. Non sei possessore subito di tutta la verità. Ti porti dietro delle idee che sono frutto della tua vita e della tua cultura che possono essere sbagliate. Anche bravamente sbagliate come queste. Dio cosa fa? Non ti prende a bastonare e fa in modo se tu non hai il cuore chiuso che tu possa correggerti. Bene, qui smonta diverse cose. Prima il sogno poi la visione poi i tre uomini poi l'angelo montato a quell'altro poi il miracolo dello Spirito Santo e quali esci il passo della scrittura? Perché tutti se non avrebbero che dicono ma dunque se il Papa si è andato a mangiare si è andato si è entrato in casa per un pagana ma che esempio dai? scandalo e più di più aspettate come racconto perché sono entrato gli raccontano tutta la storia hanno detto questo anche gli altri che erano ebrei come lui si calmarono e cominciarono a dire dunque anche ai vagani Dio ha concesso che si convertono perché abbiano la vita hanno capito? avevano delle idee sbagliate il nostro Signore con calma ha cercato di smontagliere allora state per sentire mi prego io sono 47 anni che combattono questa cosa tutti i giorni allora io sono sicuro che anche oggi mi porto dietro delle idee sbagliate di cui non sono consapevole che sono tali ma quando noi pensiamo qualcosa quando noi c'abbiamo un'idea è chiaro che noi pensiamo che sia giusta altrimenti non ci avremmo più idea non è peccato pensare che le nostre idee siano giuste di per se stesso però è peccato esserne talmente convinti che se dovessero essere sbagliati nessuno li può smontare quindi l'ospinazione è la distardagione e non essere pronti a aprirci perché il nostro Signore sicuramente c'era tante idee sbagliate da smontarci se tu non ti apri il nostro Signore non ti fa violenza ti lascia con le tue idee sbagliate ma quali sono gli effetti che producono le idee sbagliate quali sono sono negativi cioè le persone che seguono Gesù sono sempre corrette sono docide sono sempre aperte perché lo sanno che se io mi sbaglio e Gesù vuole correggere se per se non mi sbaglio faccio del male a me intorno a me perché è solo quando il benedetto è giorno chi lo sa se viene che tutto quello che penso che dico che faccio Gesù dice bravo quindi è quello che vuole lui sarà perfetto il bene per me e intorno a me se fosse anche una cosa che da questo si risocia produce soltanto che danno perché il bene viene solo dalla nostra perfetta adesione alla volontà di Dio sia che uno ci crede sia che uno ci crede sia che uno ci crede sia che uno gli piace che uno gli piace non è d'accordo non è d'accordo è un fatto oggettivo ecco perché questo è così importante è quello che io dico sempre quando una persona apre il cuore può anche essere il più grande peccatore della terra può avere tutte le idee più sbagliate del mondo ma piano piano questo signore con pazienza lo prende per mano ci può mettere un anno due anni tre anni quarantasette anni cinquanta non fa niente ma di giorno in giorno si cresce non è un problema invece il problema è che anche se conosciamo il 80% delle idee giuste e il 20% sbagliato ma c'è una casa nostra quello non lo ferma nessuno perché Dio stesso si ferma perché Dio ti tratta da una persona come dire che lui stesso ha fatto noi abbiamo una dignità ignorabile per cui la nostra libertà la nostra volontà non può essere guardata da nessuno e Dio è il primo a rispettare questa cosa perché non ti prende a calci non ti prende a sgamassoni non ti prende a frustato a bastonate con questo posto costringete a fare una cosa aspetta se vedi che tu una cosa non ci provo a fartela capire non lo vuoi stare a sentire si ritrae e poi riprova tra un po' e così via ecco perché quindi si deve essere essere decorato di Gesù significa avere sempre l'antenna del santo cioè se Gesù vuole dirmi una cosa vuole correggere un'idea vuole correggere i comportamenti sono sempre volto ad ascoltare l'unico problema è cercare di capire bene perché si tratta di una cosa che realmente viene al Signore e questo chiaramente gioca molto quanto noi abbiamo le porte quanto noi ci formiamo quanto noi diamo la possibilità al Signore di parlare al nostro cuore sempre più e sempre meglio bene vediamo Maria Santissima Dio me ne immagino tante volte come mi piace anche chiamarla così l'agnella di Dio l'agnellina veramente la più bella piccoletta che Dio sa è sicuramente Maria Santissima perché erano completamente aperta certo lei ha fatto solo sempre quello che Dio voleva è l'unica creatura che è riuscita a farlo sempre ma ciò che animava quello che ha fatto era l'assoluta certezza che solo facendo così avrebbe stata una vita stupenda come è stata e fuori era di bene in mezzo non solo per sé perché la Madonna aveva ricevuto l'incarnazione del figlio di Dio e la uso lei era un'altra solo perché faceva sempre solo quello che Dio voleva non per dire di legge a tutta l'umanità nessuno ha fatto tanto bene l'umanità eccettuato chiaramente il nostro salvatore Gesù Cristo quanto Maria Santissima possa essere ispirata a questi modelli anche la nostra vita cristiana siano dotati Gesù e Maria Senti e Santissima grazie a tutti